Sì all'unanimità del Consiglio regionale per la mozione presentata dalla consigliera Sileo della Lega sul diritto allo studio per studentesse e studenti afghani. Al Presidente della Giunta regionale viene chiesto l'impegno di mettere in campo con sollecitudine ogni azione necessaria finalizzata a garantire l'integrazione e il diritto allo studio attraverso l'erogazione di servizi formativi. Ricordando quanto previsto dal piano d'azione del Governo nazionale, iniziative formative relativamente alle borse di studio e all'accoglienza presso l'Università italiana e di studentesse e studenti afghani, Con la mozione si evidenzia che la Farnesina, in raccordo con le altre amministrazioni, ha intrapreso l'azione di razionalizzazione e coordinamento di diversi tipi di offerte da università, fondazioni e organizzazioni non governative e privati per canalizzarle verso progetti concreti per l'accoglienza in Italia di studenti afghani e che il Ministero dell'Istruzione ha già messo allo studio le modalità più opportune per assicurare l'erogazione di servizi formativi a favore dei minori afghani giunti in Italia, molti dei quali non conoscono la nostra lingua. Grazie a tutti.